Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui, ritornati su Clash Royale Per andarci a shoppare queste offerte dei bauli del gigante, che sono delle offerte inaspettate Ogni tanto, già in passato abbiamo visto delle offerte del genere, non so in base a cosa vengano messe Però, boh, ce le siamo ritornate qui E dato che il gigante è una delle carte che sto richiedendo assolutamente di più, perché non andarle a shoppare? Inoltre sono capitate proprio a pennello, perché abbiamo anche un baule leggendario da prendere Quindi ho aggiunto delle gemme, perché altre gemme le avevo già a disposizione Inoltre, come vedete, nello shop ho già preso anche un baule argento e due golem, che è la epica più vicina al livello 8 Non vedo l'ora di poterlo potenziare appunto al livello 8 E direi di andare con il primo baule dell'offerta, diciamo, del gigante Teoricamente qui dobbiamo già averne 60, il bonus massimo Teoricamente, no, e invece no, ci ha trollato male Perché ho detto, è l'unica rara che abbiamo trovato, almeno ci dà il bonus massimo E invece no, ragazzi Mi ero fatto anche un calcolo, ovvero che se avessi trovato sempre il bonus massimo Avrei già potuto portarlo al livello massimo Ma non credo, sarà proprio questo oggi il giorno in cui porteremo i giganti al massimo Anche perché pure questo non sarà mai un bonus massimo Anzi, oggi bonus, adesso bonus normale basta Però almeno abbiamo trovato il pecca, quindi almeno quello Poi comunque abbiamo già shoppato, come vi ricordate, lunedì L'offerta dei mascalzoni Eppure lì questi bauli non è che ci abbiano poi regalato grosse emozioni Anzi, eccoli, li abbiamo tra l'altro trovati Proprio li stavo citando, no? E niente, vediamo adesso che bonus ci darà per quanto riguarda... Sempre bonus! No, vabbè, dai, mi sta prendendo in giro Se mi ridà nuovamente il bonus Non gli do più manco una gemma a st'offerte, ve lo giuro Se ritrovo il bonus normale non gli do più neanche una gemma a questi bauli così Guarda, eh, guarda Sono curiosissimo Ah, vabbè, vabbè, super bonus, se sono sprecati Neanche un super bonus per adesso... Un bonus massimo, scusatemi In cinque bauli neanche un bonus massimo Mi ci gioco casa Che neanche adesso riusciamo a trovarlo Vediamo Dai, ti prego, cioè almeno un bonus massimo ce lo devi dare Almeno uno Niente Niente Neanche... tra l'altro di nuovo la veleno Cioè, raga, praticamente Potevamo trovarne 60 in un baule Non neanche in uno abbiamo trovato i 60 Vabbè Spero almeno di trovare nel baule leggendario Un... Una leggendaria che utilizzo Almeno quello Ti prego, Clash Royale Dacci qualche gioia La fuori legge Che è praticamente quella più lontano Se non una delle più lontane Per il livello 4 Vabbè Comunque Questa offerta mi ha fatto un po' tornare alla mente Questo deck che avevo iniziato ad utilizzare un po' di tempo fa Ovvero col doppio principe E il gigante, ovviamente E quindi, perché no Proviamo a riutilizzarlo Mi sarebbe piaciuto provarlo con voi Con il gigante a livello 11 Però, purtroppo, Clash Royale Ha deciso Che oggi doveva essere un giorno schifoso Per noi, per quanto riguarda il Cestopening Io comunque vi ricordo che abbiamo già shoppato anche le offerte Per quanto riguarda i mascalzoni Potete trovare il link Cioè, potete trovare il link appunto del video qui in alto a destra Nelle schede Mi raccomando se non siete andato a vederlo Cioè, se non l'avete visto Scusatemi Mi sto impicciando raga Perché sto guardando il deck di questo mio avversario Che probabilmente abbiamo lo stesso deck Mi metto a ridere se abbiamo lo stesso deck Ragazzi Quindi, se non avete visto No, ok, non abbiamo lo stesso deck Se non avete visto il video Dell'altro giorno In cui abbiamo shoppato Appunto, le offerte dei mascalzoni Andatelo a vedere Perché comunque è un altro Cestopening Supportate, mi raccomando Come al solito Clash Royale Mi raccomando, ragazzi Ci tengo tantissimo Che venga supportato Qui devo distrarre il mega sgherro Se riesco Ma non ci sono riuscito mai nella vita E questo è un problema E questo è un problema raga Perché noi contro il mastino Non abbiamo praticamente nulla Qui ho anche sbagliato Ho felato Le frecce Perché non ho preso il mega sgherro Ma è cambiato poco Perché tanto Non ha dato nemmeno una hit Siamo in leggero vantaggio Anzi no Siamo in leggero svantaggio Però lui probabilmente Riesce a difendersi meglio da noi Perché ha il drago infernale Per quanto riguarda il gigante E comunque il mastino Riesce a supportarlo Con mega sgherro E questa roba qui Non sarà facile Quest'oggi Non sarà facile per niente Questa partita Non sarà facile per niente No, non supporto con nulla Quel mega sgherro Lui continua a farci hit Che purtroppo Ci fanno male Vediamo quel mega sgherro Se riesce a far qualcosa Non credo Però fermiamo quel drago infernale Per non aver problemi E io direi anche Di provare a ripartire Con un gigante da dietro Perché tanto Lui ormai Ha già giocato Il drago infernale Speriamo Non riesca a girare Il mazzo Abbastanza velocemente Ok Ci ha giocato anche Un mastino Che per me è meglio Perché così Non Non credo Riesca a girare Velocemente il mazzo Per poter rigiocare Il drago infernale Perché deve girare Almeno altre Quattro carte Che ora diventano tre Perché ha giocato anche Il mega Eh ora Ora già può giocare Già può giocare Il tutto Ora già può giocare Il tutto Gli abbiamo preso La La torre Eh però Lui adesso Ci riparte male Qui a destra Sì alla nostra destra Con quei due Mega sgherri Eh Allora Proviamo Di scarica Vai 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 Principe Perfetto Noi di qua Non abbiamo paura No Mega sgherro Perché non mi vai Su quella Mongolfiera Maledetta Ok Ce la siamo giocata Bene raga Ce la siamo giocata Bene Non era facile Ma ce la siamo giocata Bene GG per noi E ci siamo portati A casa appunto Questa bella partita Con ben due corone Ma ve l'ho detto Raga questo deck Già lo conoscevo Perché già tempo fa Avevo iniziato Ad utilizzarlo Eh poi ho cambiato Un po' Rotta insomma Verso altri deck Però dato che il gigante È prossimo Speriamo Se è Clash Royale Ce li dà È prossimo Ad essere a livello 11 Speriamo bene Speriamo bene Comunque lo giocherei Adesso appunto Proprio parlando Il gigante Qui in basso Lui gioca uno stregone All'11 Peccato perché fosse Stato a 10 Che lo shottavamo Con la fireball Eh Così gli prendo Anche lo spiritello Sinceramente Gli prendo anche Il cavaliere Via E non ci facciamo Problemi Andiamo di principe Per far fuori Quel cavaliere Andiamo anche Di frecce Per togliere di mezzo Quel mago Anche se avevo Il principe E arriviamo a torre Arriviamo a torre Belli puliti Con il principe A livello 6 Lui utilizza La tornato Per poco Per poco Non riusciva a fare Quello che voleva fare Ovvero portarmi Il principe Sulla torre principale Ma non ci è riuscito Quindi buon per noi Che abbiamo quasi preso Quella torre Praticamente Lui ci riparte Con un golem A sinistra Io direi di piazzare Un principe nero Di qua Tanto la torre di destra Beh non male Con una fireball E una scarica Mi sa anche solo La fireball Probabilmente Ci basta Prendi lo stregone Ti prego Grande Grandissimo Grandissimo Principe nero Andiamo con una fireball Qui Per forza Così leviamo anche Quello stregone Mettiamo un principe Di qua E adesso Quegli sgherri Potrebbero essere Un problema Eh vabbè Andiamo di frecce Ok Quello spiritello Del ghiaccio Ovviamente non è un problema Pensavo peggio eh Per come era ripartito Pensavo peggio Però bene o male Ci siamo riusciti A difendere Solo che noi adesso Non abbiamo abbastanza Le sir Per ripartirgli E quindi direi Che ce ne stiamo Un attimino Tranquilli Direi che ce ne stiamo Un attimino tranquilli Solo che non ho Non ho rivisto bene La mia fireball all'undici Alle torri Precisamente Quanto toglie Però io direi Di provare a fare Una cosa del genere Andiamo belli cattivi Di qua Sia per prendergli La torre Ma che per puntare A questo punto Proprio alle tre Corone Ok Che è 292 Quindi Non saremmo riusciti A fargli il 100% Cioè scusatemi Non saremmo riusciti A prendergli la torre Con solo La fireball Dunque qui come vi ho detto Andiamo belli cattivi Con tutta la roba Il problema è che È riuscito a difendersi Il problema è proprio quello Il problema è che È riuscito a difendersi E di qua ci sta Ci sta ripartendo In maniera parecchio Aggressiva Lo so La mia scelta Era parecchio discutibile Lo so Perfettamente Però dato che Lui ormai di là C'era ripartito Abbastanza cattivo Il problema è stato Quello stregone Raga Lo sapete cosa dovevo fare Dovevo attaccare di là Come stavo facendo Ma dovevo comunque Bloccargli lo stregone Quello stregone Cioè bloccargli almeno O lo stregone O il cavaliere Perché lui è arrivato Alle Alla Alla torre principale Con troppa roba Compreso il golem E io purtroppo no Perché lui Mi ha bloccato bene Con Con le varie scariche Le varie tornato Quindi se l'è giocata bene Comunque raga Manno deluso pure Sti bauli Sinceramente L'offerta del gigante Prende nessun bonus Massimo praticamente Cioè veramente Una pena incredibile Cioè quanti giganti Abbiamo trovato Circa un 150 giganti Che vabbè Ci può stare Però comunque Veramente bonus Molto molto bassi Potrebbero mettere Qualche bonus In più Tra l'altro Ho fatto anche caso A una cosa Che nelle fortunate Di oggi Non c'è nemmeno Una leggendaria Peccato Cioè nel senso Non peccato Perché non avrei Shoppato Bauli fortunati Però Non so se mi era mai Capitato di non trovare Nemmeno una leggendaria Nelle fortunate Del giorno Non lo so Fatemi sapere Se ha dato Quest'offerta Anche a voi O se vi ha dato Altre offerte Del genere Lasciate un bel mi piace Per supportare Clash Royale Iscrivetevi al canale Se ancora non lo è Stai fatto Io vi ricordo Che sono anche su Twitch Per fare live di Fortnite C'è il link In descrizione Andatevi a vedere Anche il cestopini Delle offerte Di mascalzoni Lo trovate qui In alto a destra Nelle schede E per me è tutto E noi ci troviamo Domani O dopo una live Su Twitch Insomma Qui sul mio canale O su Twitch Ciao ragazzi Ciao ragazzi